Vaccinarsi tutti per riprenderci la vita. Ancora una volta nella consueta diretta del venerdì il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, invita i cittadini ad immunizzarsi e attacca chi contesta i Green Pass. Per stare tranquilli dovremmo arrivare a 5 milioni di nostri concittadini immunizzati, cioè che hanno ricevuto la seconda dose. Abbiamo registrato nell'ultima settimana un rallentamento molto significativo nella campagna di vaccinazione. Avevamo ipotizzato 40.000 somministrazioni a settimana, al giorno, 40.000 al giorno per arrivare a oltre un milione di vaccinazioni nell'arco di un mese. Purtroppo nell'ultima settimana registriamo quasi il dimezzamento di questo dato. Arriviamo in media a 20.000 vaccinazioni al giorno. Questo significa che se vogliamo arrivare all'obiettivo di almeno 5 milioni di nostri concittadini immunizzati, i tempi si allungano di altri due mesi. Hanno avuto la prima dose 307.000 ragazze e ragazzi dai 12 ai 19 anni, 60%. Per quanto riguarda la seconda dose, hanno avuto la seconda dose il 40% dei ragazzi di questa fascia di età. Devo dire che per quanto riguarda le scuole medie e superiori in particolare, le percentuali sono più alte. Arriviamo al 70%. Questo vuol dire che se facciamo uno sforzo ulteriore nella prossima settimana, noi apriamo l'anno scolastico avendo una situazione di relativa tranquillità. Noi abbiamo quattro donne in gravidanza che sono state ricoverate al Policlinico e alla Federico II. Tutte e quattro non vaccinate. Una di queste donne è ricoverata credo due mesi fa. Si è fatto il parto cesareo per tentare di salvare la vita al neonato. Dopo due mesi il neonato è morto. Nella famiglia di questa donna in gravidanza tutti no vax, nessun vaccinato. Così per le altre tre donne in gravidanza. Nessuna vaccinazione. Faccio appello alle donne in gravidanza perché dopo i tre mesi si facciano il vaccino. Perché mettono a rischio la vita propria e la vita del bambino. Non solo la questione targata emergenza sanitaria ma nell'intervento di De Luca trova spazio anche la programmazione. 215 treni e oltre 1000 autobus nuovi. Noi stiamo realizzando un programma eccezionale che consentirà di ammodernare la flotta di treni e di autobus, di migliorare il servizio e che consente a noi di far vivere fabbriche da Firema a Caserta, dall'industria italiana autobus ad Avellino che fabbricano treni e autobus. Noi stiamo realizzando un programma eccezionale che consentirà di ammodernare la flotta di treni e di autobus, Grazie a tutti.